Musica Ragazzi bentornati sul canale di guadagnare online con le criptovalute Questa sera vi do un'opportunità straordinaria ovvero la possibilità di guadagnare fino a 125 euro in maniera semplice e facile Mi raccomando rimanete col culo incollato alla sedia perché tra poco vi svelo tutto quanto Prima di cominciare però vi ricordo come sempre di effettuare l'iscrizione al canale youtube Sfondate proprio il tasto iscriviti mi raccomando E di venirmi a trovare anche sul canale telegram basta semplicemente cliccare su questa icona qui Quindi mi raccomando vi aspetto venitemi a trovare Allora dicevamo parliamo di cose serie parlavamo di 125 euro Sono cazzate? Assolutamente no vi faccio vedere come fare Allora per prima cosa dobbiamo andare a cliccare su questo pulsantino qui il pulsantino web Qualora invece foste da smartphone basta semplicemente che andate in informazioni e trovate il link del mio sito Quindi andiamo a cliccare su web Si apre appunto il mio sito e già sulla home page troviamo un piccolo accenno Ovvero Solidal Game ti da un premio di 50 euro anche senza nessun deposito Vuoi sapere come fare? Clicca sul logo Io vi ho promesso 125 euro non 50 ebbene si Non rimangio la mia parola perché tra poco vi spiego appunto tutto Andiamo a cliccare sul logo di Solidal Game E vediamo cosa ho scritto Allora Solidal Game è il primo gioco a punti con premio da 50 euro Per poter usufruire della strategia devi entrare nel mio canale telegram qui Quindi basta semplicemente cliccare su questo link Dovete richiedere info su Solidal Game e verrete seguiti per raggiungere il prima possibile il vostro traguardo In cosa consiste Solidal Game? È un sistema di donazioni reciproche per autofinanziamento Accessibile solo tramite carta AIP, carta N26, carta Revolut, carta Flow, carta Yap, carta Body Bank o altrimenti tramite Ethereum Quindi l'accessibilità è decisamente ampia e c'è la possibilità anche di partecipare gratuitamente In che modo? E qui viene il bello perché io vi faccio partecipare in questo modo Andiamo a cliccare su questo link Allora in questa pagina trovate la possibilità di guadagnare 75 euro di bonus gratuiti Senza investimenti, senza cazzate Mi raccomando quindi sfruttate l'occasione Basta seguire le semplici informazioni che vi ho specificato E potete usufruire di questi bonus E poi cosa andiamo a fare? Andiamo appunto a riparlare di Solidal Game Che cos'è Solidal Game? È un gioco che appunto con la partecipazione di altre persone Vi dà la possibilità di guadagnare un premio da 50 euro Andiamo a vedere nello specifico Vi faccio vedere proprio un esempio concreto Allora questa è la struttura come si pone inizialmente Quindi come vedete c'è una persona al centro Ci sono due persone qui E ci sono altre quattro persone qui Quindi sostanzialmente nel momento in cui io vado a Appunto aggiungere altre persone in questi quadranti Ne aggiungo una per esempio Ok ho aggiunto questo qua Questi sono i nickname reali delle persone che già stanno partecipando al gioco Nel momento in cui io vado a completare il quadrante Cosa succede? Che la persona al centro viene pagata In che modo viene pagata? Viene pagata con 30 euro cash Più due nuove posizioni all'interno del gioco Quindi cosa succede? Che 30 euro cash sull'unghia subito Più due nuove posizioni che vi rendono ancora altri 60 euro Quindi ragazzi è un'opportunità assolutamente da non perdere Nel momento in cui entrerete sul mio canale Telegram Mi chiederete informazioni in merito a Solidal Game E vorrete partecipare Io vi inserirò appunto nel gruppo dedicato a Solidal Game Un gruppo riservato solo per i partecipanti In modo tale che potrete ricevere tutte le informazioni Tutte gli aggiornamenti, le notifiche e via dicendo Ah, dimenticavo Nel momento in cui io vado a completare un quadrante E faccio il pagamento Cosa succede? Succede esattamente questa cosa Ve la faccio vedere nello specifico Che quindi praticamente la persona in questione Quindi in questo caso Sardus viene pagata Quindi viene eliminata Prenderà due posizioni ma ripartirà dal primo livello E di conseguenza In questo caso vedete che al terzo livello C'era Diego Due posizioni di Diego Quindi Diego andrà in pagamento Sia in questo quadrante Sia in quest'altro quadrante Quindi nel momento in cui poi andrò a completare I vari quadranti Diego prenderà i due pagamenti E cosa succederà? Che le altre persone passano di livello Quindi nel momento in cui in questo caso Sardus Viene pagato e esce fuori dal gioco Le altre persone passano al livello successivo Quindi le persone al primo livello passano al secondo Le persone al secondo livello passano al terzo E le persone al terzo livello vanno al quarto livello Quindi al pagamento Molto 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 semplice Quindi ragazzi io vi sto dando un'opportunità davvero straordinaria Quindi Solid al game 50 euro di premio Che in realtà diventano 110 Perché nel momento in cui arrivate a pagamento Ci saranno due posizioni gratuite Quindi altri 60 euro Per partecipare Ogni posizione che volete acquistare Costa 10 euro Quindi per partecipare a questo gioco C'è un contributo di 10 euro Ma volendo potrete riuscire Potrete riuscire a partecipare gratuitamente Ma non solo gratuitamente Anche guadagnandoci Semplicemente andando a sfruttare i bonus Che vi ho appunto citato prima Perfetto Con questo è tutto Mi raccomando Venitemi a trovare sul canale Telegram Cliccando su questo pulsantino qui Chiedetemi tutte le info necessarie E iscrivetevi anche al canale YouTube Con questo è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Vi do un abbraccio Ciao a tutti